Ti sei mai chiesto se la salute della tua bocca possa influire su malattie come diabete, malattie cardiovascolari o sindrome metabolica? Oggi scopriremo insieme un legame potente che potrebbe sorprenderti. Sigla! Ciao, sono Valerio Buongiorno, medico odontoiatra e in questo canale parliamo di prevenzione e sane abitudini, medicina e odontoiatria, sempre in modo semplice e comprensibile. Oggi affronteremo un argomento molto importante, la parodontite e la sua connessione con l'infiammazione sistemica. Prima di proseguire però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Partiamo dalla definizione di parodontite. La parodontite, spesso confusa con la semplice gengivite, è una malattia infiammatoria cronica dei tessuti di supporto del dente e più precisamente di osso, legamento parodontale e gengiva. L'unica vera causa è la placca, che inizia a irritare le gengive e che, in persone predisposte, ovvero circa la metà degli adulti, innesca una risposta infiammatoria da parte della nostra immunità, che causa l'autodistruzione dei tessuti di ancoraggio dei denti fino ad arrivare alla perdita dei denti stessi. E come si cura la parodontite? Intanto va conosciuta e diagnosticata. Hai le gengive gonfie? Ti sanguinano quando spazzoli i denti? Hai l'alito cattivo tutto il giorno, indipendentemente da quello che mangi? Oppure hai i denti che muovono? Potresti soffrirne, quindi non esitare a contattare il tuo dentista di fiducia per una prima visita. Riassumendo, la parodontite è una risposta infiammatoria grave innescata da batteri della placca e del tartaro, che colpisce in particolare i tessuti che supportano i denti, causando danni locali o a distanza se non viene trattata. Capirai bene che se la parodontite non viene trattata, l'infiammazione non si ferma qui e diventa un problema cronico sistemico che coinvolge tutto il nostro corpo. Cosa significa infiammazione sistemica? Significa che l'infiammazione che origina dalla parodontite può entrare nel flusso sanguigno e influenzare altre parti del corpo. Studi scientifici hanno dimostrato che le persone con parodontite sono più esposte a sviluppare altre malattie, come ad esempio malattie cardiovascolari. L'infiammazione causata dalla parodontite, infatti, può aumentare il rischio di arteriosclerosi, ovvero il restringimento e l'irrigidimento delle arterie, che porta purtroppo a infarti o a ictus. Poi veniamo al diabete, in quanto la parodontite peggiora la gestione del diabete, creando un circolo vizioso in cui l'infiammazione alimenta entrambi i problemi. Altrimenti abbiamo delle malattie autoimmuni. Disturbi come l'artrite reumatoide possono ad esempio essere peggiorati dalla parodontite, poiché l'infiammazione generale, quindi di tutto il corpo, compromette ulteriormente il sistema immunitario. Abbiamo poi la sindrome metabolica, che alla parodontite può sviluppare un aumento del rischio di sindrome metabolica, un insieme di disturbi che aumenta il rischio di malattie cardiache e diabete. Veniamo ora a malattie respiratorie. Esiste anche un legame con le malattie polmonari, come ad esempio la broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO, dove i batteri del cavo orale possono contribuire all'infiammazione che può arrivare fino ai polmoni. Veniamo ora al potenziamento reciproco a fare le malattie. Queste malattie non sono solo legate, ma si potenziano a vicenda. L'infiammazione infatti inizia in bocca, ma il suo impatto è come un domino che colpisce il resto del corpo. Un esempio, il diabete peggiora la parodontite e la parodontite a sua volta rende più difficile per la persona controllare i livelli di zucchero nel sangue. Vediamo da alcuni studi scientifici, perché molti studi hanno esplorato questa connessione. Vi sono studi pubblicati su PubMed che hanno dimostrato che i pazienti con parodontite hanno una probabilità maggiore di soffrire di malattie cardiovascolari. Inoltre, un altro studio condotto dall'Associazione Americana per il Diabete ha confermato che i trattamenti per la parodontite dal dentista possono migliorare il controllo della glicemia nei pazienti che appunto hanno diabete. Oggi vi voglio raccontare un aneddoto curioso che riguarda una ricerca condotta in Svezia, dove è stato osservato che persone con parodontite grave avevano ben il doppio della probabilità di soffrire di un infarto rispetto a chi avesse una bocca completamente sana. Non si tratta quindi solo di denti e gengive, ma di tutto il nostro corpo. Quindi, come vedete, non possiamo sottovalutare l'importanza della salute orale. Prendersi cura delle gengive non significa solo prevenire la perdita dei denti, ma anche migliorare la salute generale. Se soffri di parodontite, non aspettare, contatta il tuo dentista di fiducia per capire come trattarla nel migliore dei modi. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like e condividilo con chi potrebbe trovarlo utile. Non dimenticarti di iscriverti al canale e, perché no, di farmi le domande qua sotto nei commenti. Bene, ciao e alla prossima!